...del suo incidente, ha fatto davvero un volo spaventoso in La Vega della Quick Step Floor, se ne ha guardate che adesso cerca in extremis di correggere anche in vera pata alla curva, niente da fare, sbatte contro la Garvey, guardate il volo della bicicletta anche, aveva già sbagliato la...